... Prendono la via oggi i lavori del Movicentro, un nuovo spazio urbano con protagonista la mobilità ecosostenibile. Al taglio del nastro del cantiere, il sindaco Roberto Falcone, l'assessore alla mobilità della città di Venaria Reale Giuseppe Roccasala, l'assessore all'ambiente Marco Arlasia, il dirigente settore Diego Cipollina. Sindaco, prendono la via quest'oggi i lavori al cantiere. Il Movicentro è posizionato in una zona centrale strategica per la città e quindi questo lavoro che è dal 2004 in sospeso sulla città di Venaria è stato ripreso nel 2015 da questa amministrazione, rivisto e rimodulato in maniera sostenibile da un punto di vista di insedimento ambientale e di strategicità dei contenuti e dei servizi offerti. È molto importante perché prevede la predisposizione di servizi che saranno di supporto al centro storico e alla città di Venaria con intescambio verso la stazione Torino Ceres, sulla quale all'interno della visione complessiva del territorio stiamo lavorando anche con le amministrazioni delle città vicine affinché venga presa in considerazione dall'area metropolitana e dalla città di Torino la possibilità di intervenire su un sistema metropolitano diverso dalla semplice ferrovia Torino Ceres. Per questo motivo il Movicentro è stato alleggerito dal che era un progetto monoblocco con un silos impattante da un punto di vista sia ambientale che di consumo del suolo sul territorio con un sistema molto più alleggerito, sostenibile e integrato nella paesaggistica locale. L'area interessata non è esclusivamente quella del parcheggio in oggetto alle mie sfalle ma riguarda anche le immediate vicinanze fino ad arrivare alla passerella di Via Filzi che più volte è stata segnalata dai cittadini come interessata o che necessitava di interventi di profonda riqualificazione in quanto in stato di degrado. Siamo molto contenti quindi come amministrazione di poter dare via a questi lavori del valore di circa 5 milioni di euro un impegno di risorse molto importanti che porterà beneficio a tutta la zona centrale e a tutta Venaria. I lavori sono previsti in un completamento in meno di un anno quindi sono lavori di lunga durata e purtroppo anche i disagi che sono insiti nel progetto di per sé dovranno essere supportati dai cittadini che capiranno sicuramente dell'importanza di questo lavoro e quindi ci verranno incontro con la loro pazienza come al solito. Dopo la bocciatura del Dupin Consiglio Comunale la poltrona del sindaco è ancora ben salda? La poltrona è svincolata dal Movicentro la poltrona soprattutto è legata a temi di importanza per la città e per i cittadini al centro delle nostre attenzioni, delle mie in particolare, di tutta la mia giunta, dell'esecutivo c'è comunque sempre la programmazione dei lavori sulla città che porteranno e devono portare dei benefici devono far avanzare questa città ferma purtroppo da tantissimo tempo al palo e quindi il tema non è la poltrona ma è dare il via a tutti i lavori che possano arrivare immediatamente quanto prima in una fase dalle quale non si potrà più tornare indietro. Dopo 15 anni si realizza finalmente il Movicentro un valore prezioso per la città. Assessore Marco Allasia Si realizza finalmente dopo 15 anni un valore per l'ambiente, un valore per la città e soprattutto si realizza un tipo di città che è quella che vorremmo lasciare ai cittadini di Venaria una città in cui il consumo di suolo è effettivamente ridotto ridotto ai minimi termini rispetto a quelli che erano i concetti precedenti un ambiente in cui la mobilità finalmente diventa una mobilità dolce, sostenibile dove l'auto non è più l'unico mezzo di trasporto ma dove ci sono mezzi pubblici su rotaia e su gomma mezzi alternativi come la bici e tutta quella che si chiama mobilità dolce e mezzi dove l'utilizzo non è più solo quello esclusivo privato di una singola persona ma dove più persone possono condividere un mezzo possibilmente elettrico che sia di aiuto per l'ambiente che ci circonda. Un incentivo in più ad usare i mezzi pubblici Un incentivo in più ad usare i mezzi pubblici o a ripensare la propria mobilità perché spesso diamo per scontato che l'unico modo per muoversi sia l'utilizzo dell'auto privata che spesso viene utilizzata in maniera singola, cioè un singolo individuo all'interno di una singola vettura questo modello non è più sostenibile oggi per cui bisogna trovare delle alternative questo è un punto in cui le alternative possono trovare realizzazione. Allora con oggi facciamo sapere alla cittadinanza che ha avviato il cantiere di un'opera strategica per la città di Venaria il Movicentro, è un parcheggio di interscambio per tutti coloro che utilizzeranno diversi modi di viaggiare con il trasporto pubblico in particolare il progetto prevede un'area parcheggio per 70 posti un parcheggio che sarà permeabile in erbito con alberi che permetterà la sosta diversificata anche a mezzi e a sistemi di trasporto come il car sharing e il car pooling ci saranno centraline di ricariche elettriche e tante altre servizi disponibili alla cittadinanza un'altra parte del progetto prevede la realizzazione di una piazza passante tra la struttura dell'edificio passeggeri e i binari che permetterà appunto in sicurezza a coloro che frequentano appunto e che usano il trasporto pubblico di recarsi con tutta comodità ai binari grazie grazie grazie